Tasse e imposte, una notizia positiva, un'altra negativa. Entrambe sono state annunciate ieri sera dal sindaco di Como Mario Lucini in diretta su ETV. La notizia negativa è la conferma di un'indiscrezione che circolava insistentemente da qualche settimana. Il Comune dovrà attingere in modo più consistente dalle tasche dei cittadini, ritoccando verso l'alto l'addizionale IRPEF l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ad ammetterlo, come detto, lo stesso sindaco di Como. Da qualche parte delle risorse aggiuntive andranno recuperate. È possibile che sull'IRPEF ci siano dei ritocchi, sì. La notizia positiva, invece, è una possibile esenzione dalla Tasi per gli inquilini. La tassa sui servizi indivisibili dovrà in parte essere pagata anche dagli utilizzatori degli immobili, in una misura variabile tra il 10 e il 30% decisa dalle amministrazioni comunali. Secondo quanto riferito ieri sera dal sindaco Lucini, però, c'è anche una terza opzione. Vale a dire lasciare l'intera Tasi a carico del proprietario dell'immobile, esentando quindi l'inquilino dal pagamento. Il comune di Como starebbe verificando proprio quest'ultima possibilità. Ci sono diverse opzioni sul campo, ha detto il sindaco di Como ieri sera. Entro un paio di settimane dovremo definire le decisioni sulla Tasi. Esiste la possibilità di non applicarla agli inquilini. Abbiamo visto che alcuni comuni hanno scelto questa strada e le delibere sono state pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi ritenute coerenti.